I prezzi medi di gasolio e benzina rilevati lungo la rete stradale e autostradale italiana risultano stabili da tre giorni, è quanto fa sapere il Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma gli automobilisti alle prese con l'esodo a Gostano stanno comunque facendo i conti con il caro benzina, una scesa costante favorita dalla componente fiscale dei carburanti che in Italia vale oltre il 50%, tra IVA al 22% e accise. Per il Ministro Adolfo Urso i prezzi hanno cominciato a salire da quando l'OPEC, il cartello dei paesi arabi alleati con la Russia, ha cominciato a tagliare la produzione per far salire i prezzi del barile. E le accise non verranno tagliate, fa sapere il titolare del Mimit. Nonostante una sostanziale stabilità negli ultimi giorni, sulle autostrade la benzina Self ha un prezzo medio di 2,019 euro al litro, in gasolio di 1,928. Sul caro carburanti interviene anche il Kodakons, che punta il dito contro il governo per il mancato taglio delle accise. Non è stato fatto nulla per evitare il salasso alla pompa di benzina, non sono state mantenute le promesse, afferma il Presidente Carlo Rienzi.